Io devo molto a Maurice Fréchet, è stato per me non tanto un maestro, quanto un grande benefattore, perché nella vita, nella mia percorso, la parte dura del mio percorso quando ero insegnante, non ero professore, insomma. Fréchet ha significato molto, perché? Io sono diventato professore molto tardi, cioè mi sono laureato dopo i 40 anni, perciò già avevo un grosso percorso. Quando mi sono laureato, sono andato a insegnare in una scuola media inferiore, insegnavo matematica e scienze in una scuola media inferiore. Io sono sempre stato un grande lettore, avido di lettura, e nel libro, in un volume che c'era importante, Cultura e scuola, del Ministero della Pubblica Istruzione, ho letto una notizia che mi ha attirato. La notizia diceva, viene bandito un concorso al quale possono partecipare tutti i professori di ruolo e non di ruolo, tutti i presidi di ruolo e non di ruolo, e tutti i professori di ruolo e non di ruolo, per un progetto, una trattazione di un argomento importante di matematica. Va bene? Ora, io era appena laureato, non avevo nessuna esperienza che io partecipassi a questo concorso, tra tutti i professori italiani e tutti i presidi di ruolo e non di ruolo, era quasi una pazzia, no? Però siccome io anche delle cose pazze le ho fatte nella vita, dico adesso io partecipo. E ho avuto questa idea, avevo letto, ma per conto mio, degli scritti di Maurice Fréchet, era apparso un lungo e importante articolo negli annali di Palermo. Palermo. Ora voi dovete sapere che Palermo, gli annali di matematica di Palermo, era una rivista scientifica molto molto interessante, che aveva anche un seguito internazionale notevole. E qui è apparso un articolo di Maurice Fréchet. Poi ho scoperto un libro di Fréchet che parlava degli spazi astratti, ora astratti, quando dici spazi astratti, algebra astratta, non sai davvero che cosa sia. Può essere le cose più strane, l'algebra astratta, che significa l'algebra astratta, gli spazi astratti, che significa? Possono essere le cose più strane. Però questo libro mi era piaciuto molto e l'ho letto avidamente. E allora, negli scritti di Fréchet, io ho trovato l'argomento per fare questo lavoro. A posteriori ho saputo che Grotendich aveva iniziato proprio familiarizzando e amando gli scritti di Fréchet. E allora ho fatto un progetto e ho scritto un fascicolo di oltre 100 pagine che grossomodo aveva il titolo dall'analisi matematica classica all'analisi funzionale all'analisi generale. Questo fascicolo praticamente poneva alla base dell'analisi matematica classica la nozione di funzione, alla base dell'analisi funzionale, dell'analisi classica, analisi funzionale all'analisi generale. Allora, nell'analisi funzionale poneva come base la nozione di funzionale e nell'analisi generale poneva come base trasformazione. Con questo quadro, praticamente, io ho fatto un libro di oltre 100 pagine che dava una rappresentazione di una realtà. l'analisi funzionale, che non era neanche del mio gusto, perché io sono essenzialmente un algebrista e un geometro. Invece l'analisi matematica è un altro campo, invadevo un altro campo, però ci sono entrato bene, grazie a Fréchet, e ho scritto questo fascicolo. L'ho scritto in quattro settimane, più di 100 pagine, e questo è piaciuto molto alla commissione, e mi ha dato il primo premio, mi ha dato soldi, e mi ha pubblicato in succinto una parte di questo quadro, pagandomi, eccetera. E ho vinto il premio, ho vinto questo concorso. Ora, voi capite, io che dopo i 40 anni mi laureavo, che carriera universitaria potevo fare? Sembravo tagliato per la carriera universitaria, no? Cioè tagliato fuori dalla carriera universitaria. Invece il fatto che io arrivavo come primo in tutta Italia, insomma, ha impressionato qualcuno. e ho detto, beh, stiamo attenti, Mare Filentini non è l'ultima ruota del carro, Mare Filentini bisogna aspettare per giudicarlo. Capito? Perciò per me, Maurice Fréchet è stata una benedizione. Odifredi ha intervistato Serra, che è stato il primo che ha vinto la medaglia Filz. E l'intervista di Odifredi a Serra andrebbe letta, perché è molto interessante, diciamo. Però Odifredi dice, ci sono le alte vette, i grandi, ma Serra è una vetta oltre che grande vetta, insomma, è una cima, è un elemento di grande, di grandissima qualità. Serra. E in particolare lui è riuscito a fare cose egregie importanti in tre settori della matematica, nella topologia, nella geometria algebrica e nella teoria dei numeri. Io aggiungo topologia, geometria algebrica, algebra omologica e teoria dei numeri. Vale a dire, Odifredi non ha messo l'algebra omologica, invece secondo me Serra è uno dei quattro grandi dell'algebra omologica. Ora, i quattro grandi, cioè, si dice che i tre grandi, inventori dell'algebra omologica, sono stati Cartan, Eilenberg e Grotendijk. Io invece dico che gli inventori, insomma, la base, i primi che hanno fatto l'algebra omologica, l'hanno inventata. Sono stati Cartan, Eilenberg, Serra e Grotendijk, questi quattro, va bene? E' perciò integro. D'altra parte, l'algebra omologica è un settore della matematica che è intervenuto molto tardi, cioè a 50 anni di storia, 60 anni di storia, non è come la geometria algebrica. La geometria algebrica c'ha 200 anni, la geometria classica di Euclide c'ha 2.000 anni, 2.300 anni, va bene? L'algebra omologica è un ramo molto particolare dell'algebra che però è intervenuta in tempo moderno, negli ultimi 50 anni, grossomodo 50-60 anni, l'algebra omologica, va bene? E allora perché? Che cosa ha fatto Serra in algebra omologica? Ha dato una nozione, che secondo me è una nozione che è fondamentale per tutto un insieme di ricerche, ed è una nozione che viene presentata, che a lui ha presentato in modo molto semplice e all'inizio non è stata capita ovviamente come spesso succede. Lui a un certo momento della sua vita dà una nozione che poi chiama in un modo sibillino e quasi incomprensibile la nozione di A sequenza. Allora che significa A maiuscolo? A sequenza A è la sigla di anello. Perciò sequenza è una successione di elementi, di numeri, eccetera. Sequenza, successione, sono sinonimo. A sequenza, tu c'hai un insieme di elementi, uno, due, tre, quattro, è una sequenza. E ha dato una certa definizione di A sequenza, una definizione che dà lui. Ed è una definizione abbastanza riposta, non è molto facile spiegarla, io non posso dare le definizioni, presuppongo che parlo che le definizioni meno le conoscono, diciamo così. Però lui dà una nozione e poi dà un teorema che dice sono equivalenti queste proprietà A, B e C. Perciò lui dà una definizione che è una definizione chiave e poi dà un teorema che è un teorema chiave. Questo è l'apporto di Serra e questo è stato l'inizio di un percorso meraviglioso, un percorso lungo, un percorso glorioso a cui hanno partecipato molti e molti matematici. Va bene? La nozione di A sequenza, data da Serra, io vi posso dire in due parole, sistemava il ruolo delle sizige associate a una successione di elementi che danno un ideale. Ma vi dovete spiegare cos'è una sizigia. Se vi devo dare delle definizioni perdiamo un'ora, e non lo possiamo fare. E allora abbiamo questa nozione e questo è stato un momento in cui la ricerca matematica ha fatto un balzo in avanti. Proprio sono quelle cose che quando vengono poi viene fuori. La nozione di A sequenza di Serra ha avuto degli sviluppi che sono vertiginosi, meravigliosi. E in questi sviluppi bisogna dire che c'è Mario Fiorentini che dopo Serra ha fatto quest'opera grandiosa di matematica. Va bene? Ora, la nozione di A sequenza diceva poco successivamente però ci sono stati due grandi matematici americani Auslander e Busbau che hanno ripreso la nozione di Serra e l'hanno chiamata regular sequence non A sequenza ma regular sequence. Ora, regular è un termine matematico regolare è una parola chiave della matematica. regolare una curva significa che non ha singolarità una situazione è regolare la parola regolare è una parola chiave della matematica diciamo, no? E allora loro hanno detto regular sequence in inglese l'altra aveva parlato in francese e questo ha chiarito meglio il significato di A sequenza però le A sequenza o regole A sequenza le hanno inventate Serra e loro hanno semplicemente cambiato il linguaggio capito? Attenzione Attenzione Successivamente è venuto Mario Fiorentini che ha dato una prima nozione una short relative regular sequence loro hanno chiamato regolare sequenza avevano chiamato Auslander e Buspao no? Io parlo una short short oppure strict stretta regolare relative sequenze e questo ha significato un balzo in avanti gigantesco gigantesco va bene però non è stato capito questo proprio non è capito neanche ancora oggi cioè ancora oggi gli specialisti se ti parla di questo percorso non hanno capito che ci sono state le short relative regolare sequenze che hanno anticipato le relative regolare sequenze mentre sanno che io ho introdotto la nozione di relative regolare sequenze non sanno che sono preceduti dalla short perché le ho comunicate molto più tardi questo fatto e allora adesso noi abbiamo questa progressione a sequenze ser regolare sequenze Auslander Buspao va bene poi short relative regolare sequenze Mario Fiorentini poi regolare sequenze Mario Fiorentini solo poi dati due moduli n contenuto in m due moduli la struttura di modulo è una definizione importante i moduli è una definizione matematica molto importante che generalizza quella di anello e quella di spazio vettoriale capisci è una nozione che è avvenuta in matematica i moduli la teoria dei moduli e allora tu hai un modulo m un sottomodulo n io ma principalmente io ma anche io essernesi che abbiamo scritto un grosso articolo che sta qui un grosso articolo abbiamo dato la nozione di m regolare relative sequenze rispetto ad n contenuto in m e questa è la nozione più grandiosa e più importante ed è una delle definizioni più importanti della matematica di tutti i tempi va bene? francamente sono un allievo di Serra non solo sono un allievo di Serra ma ho portato avanti e in maniera decisiva una problematica che era trattata da lui e che io ho migliorato perciò i miei maestri sono quelli di cui ho migliorato la matematica hai capito? è capovolta la situazione e allora si può dire che Mare Fiorentini è un protagonista dell'algebra omologica perché? perché ha migliorato una situazione portata avanti da Serra che è una situazione importante dell'algebra omologica ecco e adesso chiudiamo con Serra perché non abbiamo tempo allora Alessandro Grotendich è un grande innovatore a mio avviso il più grande matematico che io ho incontrato va bene prima di Grotendich noi abbiamo incontrato un matematico che era Euclide va bene perché è grande Euclide perché intanto ha dato la nozione di dimensione da chi è stato superato e migliorato ci sono stati due matematici non si sa se Grasman oppure Peano ma sembra Peano che hanno introdotto una nozione superiore a questa quella di varietà hanno dato una nozione di varietà che naturalmente usciva dalla schema di Euclide no Euclide non considerava le varietà di dimensione maggiore uguale a 3 a 4 a 5 è chiaro perciò dopo Euclide vengono Peano Grasman va bene varietà Grotendich è grande per tanti motivi ma uno dei quali molto importante è che lui ha introdotto la nozione di schema allora uno schema è una qualcosa di più grande che non la varietà cioè ci sono degli schemi che non sono varietà capisci è una nozione più grande e allora Grotendich è un enorme innovatore perché dopo Euclide dopo Peano si pone si pone Grotendich che ha inventato gli schemi ed è una delle grandi cose che ha fatto che ha fatto Grotendich va bene Grotendich io ci siamo rincorsi tutta la vita e purtroppo non non ci siamo incontrati ovvero io ho incontrato Grotendich una sola volta e l'ho incontrato quando lui nel 1970 ha detto aveva avuto il premio la medaglia Fild ma ha rifiutato i soldi lui aveva è venuto ha detto io non faccio più matematica perché se la matematica deve servire per la guerra io la guerra non mi piace e io non faccio matematica perché non faccio non amo la guerra e ha rifiutato di fare ricerca si è isolato è una storia molto difficile anche perché io credo di poter capire Grotendich e perché perché Grotendich ha avuto un vissuto molto molto penoso e io ho avuto un vissuto molto molto penoso e una delle tappe di questo vissuto è questo il padre di Grotendich era ebreo è stato preso ha avuto una vita sempre di lotta contro i potenti contro era un anarchico rivoluzionario e lui ha fatto la guerra in tutto il mondo è andato in Germania è andato in Spagna eccetera poi in Spagna la guerra di Spagna ha avuto l'effetto che sappiamo e allora hanno preso tutti i prigionieri che ce l'hanno come prigionieri e il padre di Grotendich l'hanno preso e l'hanno portato in Francia in Francia il governo francese con un atto di una vigliaccheria eccetera ha preso Grotendich ha preso il padre di Grotendich e l'hanno mandato nei forni crematori e questo ha provocato in Grotendich un dramma interno una tragedia che non ha mai superato io ho incontrato una sola volta Grotendich nel 1970 quando lui ha fatto il grande rifiuto questa volta è stato un colloquio a tre Nagata Grotendich e Mare Fiorentini e noi abbiamo avuto questo incontro però se io ti dovessi dire tutte le cose che ci siamo dette adesso dovrei stare mezz'ora e non lo posso fare e non lo posso fare va bene? ecco però farei un altro punto di vista dunque io ho cercato Grotendich tutta la vita ho cercato gli ho scritto personalmente fatto scrivere dai miei collaboratori per un certo momento lui era senza stipendio lui aveva lasciato la scuola eccetera e allora io gli ho fatto scrivere da Ghione da Lascu e da altri se lui veniva a Ferrara come professore merito senza obbligi di nessun genere né di far lezione soltanto come professore un consulente va bene? ecco se lui veniva gli davano uno stipendio il professore e diventava insomma una cattedra aveva una cattedra eccetera ecco lui ha risposto di no una prima volta una seconda volta una terza volta e io non ho potuto fare altro va bene? poi Grotendich da un certo momento in poi si è isolato dal mondo scientifico perché è andato a Montpellier però a Montpellier lui non viveva a Montpellier lui viveva su una montagna nello stato brado faceva i bisogni in questo luogo lui però una volta alla settimana andava a Montpellier dove riceveva uno stipendio sia pure modesto ma aveva uno stipendio hai capito? ecco allora io conoscevo molto bene i due direttori del seminario di algebra di Montpellier che erano Olivier e Artibano Micali italiano di origine italo brasiliano francese italiano brasiliano francese e allora Artibano mi dice questo siccome io volevo incontrare Grotendich e Grotendich voleva incontrare me ma si è saputo dopo lui mi dice senti Mario facciamo in questo modo in questo modo a Montpellier c'è il seminario di algebra che è il martedì io ti invito a fare due conferenze il martedì e il martedì dato che Grotendich viene una volta alla settimana in mezzo ci starà capito? e tu così parli con lui hai capito? allora io prendo e parto e vado a Montpellier però purtroppo la moglie di Artibano Odila mi scrive a me e a Lucia anzi scrive a Lucia gli dice Lucia vieni con Mario io ho una casa dove ho dei mobili di antiquariato a te piace l'antiquariato perché lei Odila quando veniva lei e le figlie venivano a casa mia tu sai casa mia è stato un rifugio sempre per tutti per tutti e allora lei veniva aveva tre figlie uno o due figlie veniva e si mettevano nel letto nostro e noi ci mettevamo a dormire in un lettino hai capito? e lei sapeva che Lucia era appassionata di antiquariato dice guarda io sono mobili antichi e tu ti divertirai con me vieni 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 e Lucia decide di venire però da Ferrara fino a Montpellier era un viaggio terribile perché? perché da Ferrara dovevi andare a Bologna e già a Bologna dovevi scendere le scale di sotto di sopra ecc poi da Bologna dovevi andare a Novara e a Genova poi da Genova a Marsiglia insomma è stato un viaggio molto faticoso molto faticoso capisci? e per Lucia che ci aveva un'anca era una sofferenza comunque dopo questo viaggio tormentatissimo è lungo e esasperante arriviamo a Montpellier e aspettiamo il martedì e il martedì io faccio una conferenza e Grotendicco non c'è passa tutta la settimana avviene la settimana dopo il martedì successivo faccio un'altra conferenza in questo lasso di tempo non è venuto perché? perché non so che cosa c'è stato che Grotendicco tutte le settimane una volta veniva quella settimana non viene e allora a questo punto io sono costretto a lasciare Montpellier con Lucia e andare via senza aspettare quando Grotendicco viene e sente che io sono venuto e me ne sono riandato ha avuto uno scatto dire ma perché? perché? non poteva rimanere un'altra settimana? ha detto e dice c'era un allievo mio e suo che dice non aveva mai visto tanto contrariato Grotendic quanto per il fatto che io non ero riandato capito? era contrariato cioè voleva parlare con me eccetera hai capito? però c'era un fatto Lucia mia aveva avuto una cosa qui poi doveva fare e non poteva più rimanere non si poteva rimanere un'altra settimana eccetera e me la sono portata via io mi sono tagliato un braccio per aver fatto quello avrei voluto rimanere ancora però c'avevo Lucia che soffriva è stata una cosa disgraziatissima questa è stata una delle cose che io mi rimprovero perché dico avrei dovuto rimanere ancora avrei dovuto rimanere ancora una settimana però avevo anche mia moglie che soffriva eccetera e questa è stata una tragedia la persona intelligente direbbe questa va bene ma se voi vi incontravate a Montpellier tu rimanevi un'altra settimana che gli avresti decontato a Grotendic che gli avresti chiesto è questa che cosa e allora una delle cose che io gli avrei chiesto è questo dunque devi sapere per rispondere a Bottazzini che dice che Grotendic non amava i matematici ha detto una cosa stravagante Bottazzini ha scritto Grotendic non amava i matematici è una cosa stravagante allora la risposta è questa Grotendic quando diciamo era in quarantena ha tenuto un epistolario con Serre cioè si scrivevano e si scrivevano di matematica e hanno scritto un papiro così di matematica che è una lettura importante che io conosco ma che pochi conoscono in questa lettura c'è uno scambio di idee tra Serre e Grotendic perciò non è vero che Grotendic odiava i matematici non è vero con Serre c'aveva un rapporto si scrivevano continuamente e anche si scrivevano affettuosamente no? è chiaro? è chiaro questo fatto? eh va bene poi c'era un matematico dei Burbacchi che è Cartier che ogni tanto lo andava a trovare e loro parlavano e parlavano di matematica perciò c'erano già due persone che trattavano con loro ma poi Grotendic aveva amicizia e amava quattro personaggi come si può mostrare questi personaggi erano uno era Bucur l'altro era Lascu e lui amava questi due poi c'erano Andreotti e lui amava Andreotti le prime copie della sua orazione funebre le prime due copie le ha date a Bucur e a Andreotti che sono morti giovani entrambi e le vedove che hanno fatto di questa donazione che ha fatto Grotendic l'hanno data a Mare Fiorentini perché perché Andreotti e Mare Fiorentini erano tra le persone più amate da Grotendic hai capito? perciò non è vero che non amava i matematici Grotendic ha amato quattro matematici due romeni e due latini due romeni e due italiani ha avuto rapporti epistolari concerti si scrivevano ogni giorno continuamente lettere gentili di matematica eccetera capisci? e lui parlava con Cartier eccetera perciò chiuso un matematicien de vale siècle un matematico di fronte al secolo Schwarz Loren Schwarz che non è un matematico mio maestro però lui ha scritto un diario al quale io mi sono ispirato il suo diario il matemante Van Le Siecle ha fatto sì che io mi sia ispirato a lui perché? perché Loren Schwarz è un matematico ebreo di famiglia ebrea ha sposato una donna ebrea di grande famiglia di due famiglie eccetera lui racconta io sono nato in una famiglia di gente di destra ed ero di destra poi c'è stata la persecuzione e beh sono passato all'estrema sinistra poi dall'estrema sinistra sono passato ai troschisti dopo i troschisti non mi andavano bene sono passato ai comunisti i comunisti non mi andavano bene però sono sempre stato per la libertà per la democrazia per il sociale per l'ambiente la difesa dell'ambiente sono stato sempre uno di questi grandi progressisti diciamo allora Schwarz quando è tornato dall'estero perché non stava in Francia stava all'estero ha incontrato Grodendich e gli ha detto sai Grodendich io sono tornato quando io stavo fuori non facevo matematica scappavo avevo pericoli da salvare facevo politica facevo io non ho più lavorato però quando sono tornato anche se era passato i due o tre anni eccetera ricordavo tutto di matematica e allora Grado gli ha detto stai attento non fidare della tua memoria scrivi e allora lui ha chiamato Isabella una scrittrice che ha preso questi appunti suoi e li ha messi in forma letteraria e ha scritto questo libro io che sono una scimmia imito gli altri faccio un diario anche io e mi sono messo a fare un diario e scrivo una cartella un'altra cartella due tre dieci venti venticinque trenta cartelle piene di pensieri piene di osservazioni mie cose eccetera dove c'è però un mare di cose ho fatto venticinque trenta trentacinque cartelle piene di materiale che sta però tutto ammucchiato in un calderone e i posteri o lo manderanno oppure ne faranno poi lo riprenderanno li ricuciranno e verrà fuori un diario come quello di come quello di Schwarz e allora io mi sono ispirato a Schwarz e l'ho messo tra i miei colleghi